Le applicazioni del taping elastico in kinesiologia devono tener conto di tutti gli aspetti neurofisiologici, biomeccanici e anatomo funzionali dell'apparato locomotore e del sistema del controllo motorio. La razio dell'integrazione si basa sostanzialmente su un'attenta valutazione kinesiologica al fine ultimo di strutturare e programmare le esercitazioni per il raggiungimento dell'obiettivo.